Musica Buonasera a telespettatrici e telespettatori di TV7, bentrovati ad un nuovo appuntamento con il Sindaco Risponde. Buonasera al Vice Sindaco di Padova Andrea Micalizzi, ospite nei nostri studi. Buonasera, buonasera a tutti. Vice Sindaco, anche in questa puntata avremo molte tematiche da affrontare relative alla città, relative ai progetti, relative alle questioni da risolvere. Sicuramente un tema importante è quello legato alla viabilità e proprio in queste ore c'è una novità importante perché avete cominciato, per così dire, almeno con le operazioni preliminari, la posa della passerella molto attesa alla specola dove insomma c'è il Ponte Paleocopa chiuso, lo sapete cittadini padomani, insomma soprattutto voi che frequentate il centro che insomma da alcuni mesi è chiuso il ponte che è in corso di restauro, per così dire, insomma finalmente Vice Sindaco è cominciata la posa della passerella. Sì, finalmente, finalmente perché l'ho aspettata tanto e finalmente siamo riusciti insomma a partire. Qual è il punto? Ponte Paleocopa, ponte del 1880, un ponte che ha necessità di interventi di sicurezza e di restauro, la soprintendenza ha dato delle prescrizioni molto rigorose sulla gestione di questo intervento e quindi è un intervento che durerà un anno e mezzo. Io nello spiegare ai residenti, ai commercianti, come faccio di consueto l'intervento, alcuni mesi prima spiego il cantiere, i commercianti, i residenti mi hanno detto ma va bene le auto che fanno la deviazione, tutto sommato insomma va bene in questo periodo di cantiere qualche deviazione in più e di troppo ne abbiamo. Io ringrazio sempre i padovani che insomma pazientano e capiscono che questa è una fase di restyling della città importante. Però insomma mi hanno posto l'accento che sarebbe servita anche una passerella magari provvisoria per pedoni e biciclette. In quella zona siamo in centro, insomma sono tanti che si muovono così e quindi ho raccolto questo suggerimento, in effetti non ci avevamo pensato e così migliorerebbe la convivenza col cantiere. Quindi ci siamo adoperati immediatamente, abbiamo coinvolto anche l'esercito che verrà a montarci una passerella provvisoria, si monta in una decina di giorni, quindi oggi sono iniziate le prime operazioni e quindi tra poco finalmente si potrà transitare a piedi in bicicletta. Ci sono un po' di attività commerciali, c'è l'università, ci sono delle residenze, insomma è giusto tenerli in contatto. È stato molto complicato perché abbiamo dovuto mettere insieme, a parte un finanziamento da 115 mila euro che di questi periodi non è... Diciamo che ne avreste fatto volentieri a meno se possibile. Non è semplice, ma per i cittadini insomma se si può, soprattutto in questo periodo in cui la città è anche appesantita dai cantieri, migliorare la convivenza dei cantieri è un po' una nostra attenzione per quanto possibile. Ma abbiamo dovuto passare per i pareri obbligatori del genio civile che è proprietario dell'area, perché quello è un canale, seppur interno, ma comunque è un canale importante, il tronco maestro, e della soprintendenza che ha dovuto valutare la posa e le caratteristiche di questo elemento e la temporaneità. Quindi la montiamo, starà su circa un annetto e per un annetto sostituirà per pedoni e ciclisti insomma il ponte Paleocrapa che è in restauro. Sì, insomma e soprattutto aiuterà ad evitare insomma agire decisamente più lunghi e percorsi più lunghi ai cittadini padovani. In generale però, vice sindaco, voi state intervenendo molto sui ponti, so che avete diversi lavori in corso o comunque pronti a partire? Ci può magari riepilogare i principali? Ma sono alcuni milioni anche che, grazie al PNRR, che tra le varie linee di finanziamento aveva anche quella della sicurezza delle infrastrutture, devo dire che dopo Genova il tema è tornato, come dire, forte a livello di linee di finanziamento ministeriali e noi ci siamo fatti trovare pronti perché avevamo già un'indagine su tutti i nostri ponti, pensate Padova tra Ponti e Passerelle, ha circa 200 infrastrutture, quindi insomma non una cosa da poco. Anche perché insomma devono essere poi tutti controllati, monitorati, perché sappiamo insomma l'importanza. E guardate che il censimento è stato uno dei problemi più importanti, il censimento non catalogarli, come dire, numerarli semplicemente, ma reperire per esempio i progetti dei ponti, perché alcuni sono molto vecchi, molto antichi e quindi è stato un lavoro importante fatto con l'università. Avere il progetto è come avere una radiografia di un paziente. Ma com'è possibile, vice sindaco, mi scusi se la interrompo, le chiedo, com'è possibile che nel tempo questi progetti si siano persi? Non si è mai pensato di amministrazione in amministrazione tenerli lì perché sarebbe servito un giorno o l'altro andarlo a riprendere? Allora io non le so da risposta perché sono tempi molto... Però pensate a recuperare il progetto del ponte Paleocpa 1880. Evidentemente non è cosa scontata il fatto che si abbiano tutte le progettualità delle varie infrastrutture, insomma che il ponte dei Graissi a Camin o altri ponti Muratura che stiamo sistemando ultimamente. Quindi primo punto il censimento di tutti i progetti e quindi avere come dire una radiografia e poi un'analisi che ha messo alcuni semafori verdi, arancioni e rossi, ponte dopo ponte e poi da lì abbiamo iniziato i vari finanziamenti. Avere questo lavoro è stato importante per poter attingere ed essere preparati. Noi abbiamo attualmente il Paleocpa, un milione e otto di intervento, di restauro. Poi abbiamo appena concluso i lavori di manutenzione sul ponte della tangenziale est del Bacchiglione, anzi alcune operazioni sono ancora in corso. Gli automobilisti che passano di là possono notare che è interclusa la corsia, quella di emergenza. Diciamo che la botta più grossa l'abbiamo data quest'estate, dove la viabilità è anche più ridotta e lì gli automobilisti hanno dovuto pazientare e muoversi in senso alternato. Un milione di intervento comunque per manutentare un ponte che fa un lavoro piuttosto importante perché pensate al carico che porta ogni giorno il traffico della tangenziale attraversa il canale scaricatore grazie a quel ponte. Più avanti, cioè più avanti in direzione di dove, più avanti verso nord diciamo c'è il ponte che attraversa il piove, che è sempre in tangenziale, è un ponte un po' più piccolo e anche quello interverremo con una manutenzione e quello è inserito all'interno di un contenitore che prevede quel ponte lì insieme al ponte Altinate e il ponte del Carmine che sono in centro come si intuisce dai nomi, sono ponti in calcestruzzo e sono un contenitore da quasi un milione di euro. Abbiamo interventi in corso anche su ponti in muratura, ponte dell'osservatorio, stiamo ultimando quindi sempre in zona Palle Ocapa ma in una situazione in cui non diamo fastidio alla viabilità e il ponte dell'ortobotanico, anche quello appena risistemato, i lavori sono conclusi. A due passi da Prato della Valle per intenderci. Certo, di fronte proprio all'ortobotanico e tra poco iniziano i lavori anche al ponte San Leonardo, siamo in zona via Savonarola, giù di lì. Questo invece è un contenitore specifico per ponti in muratura, quindi ponti datati. Ci aspetta un appuntamento importante, lì lo stiamo coordinando col tram, la sistemazione del ponte Ariosto, quindi siamo tra via Gattamenata e l'incrocio della Stanga. Perché poi lì passerà il tram sostanzialmente. No, per di là no, il tram passa su via Venezia ma quando interverremo lì, siccome ci saranno modifiche alla viabilità, non vogliamo lavorare contemporaneamente ai lavori del tram. Altrimenti andreste ad intasare troppo ovviamente la viabilità. Esatto, quindi la precedenza... Che già non è facile. La precedenza va alta. Guardate che non è facile incastrare tutti questi in effetti, perché poi sono cantieri anche molto duraturi e la viabilità a Padova è già una viabilità, come dire, in sofferenza, perché noi 200.000 abitanti sopportiamo, come dire, il traffico poi di mezzo milione di utenti alla fine, compresi i cittadini padovani, durante il giorno. E quindi vanno coordinate bene. Quindi questo lo vedremo, diciamo, con il ponte, cioè con i lavori del tram. E avremo sicuramente l'ora e tempo per parlarne. Sono due punti, perché su Via Riosto dobbiamo passare il canale Roncaiette e il Piovego. Quindi insomma è uno nodo più costo. Ha ragione, perché ci sono due. Ce ne sono due. Ci prendiamo una breve pausa, torniamo subito dopo, continuiamo questa analisi, insomma, sulle infrastrutture di Padova, perché ci sono anche altre novità importanti che tra un po' vi diremo. Rimanete con noi a tra poco, con il Sindaco Risponde.